Un saluto a tutti i campanari di Youtube, ci troviamo ad Adria, provincia di Giorvigo, nella chiesa parrucchiale dei Santi Pietro e Paolo. Abbiamo un concetto di cinque campane, adesso sconteremo la più grande per mezzogiorno. Oggi è le ceneri, quindi speriamo che non suonano solo la campana grossa, ma tutte, però quello che suona, suona. Alla prossima! 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 Alla prossima!